Direi A Cap di Slash, Diary Styles e Rudy Zerby. Una canzone che mi sta più a cuore dell'album, Sì, è Tracce di Te, è un pezzo che mi porto in realtà da quando ero ancora ad Amici, ne ho iniziato a scriverlo lì e poi l'ho finito poi dopo. L'album nasce tra una data di in-store, tra una data di hype e un day off. E' tutto molto energico, tutto molto movimentato, perché riflette un po' quel periodo che stavo ridendo. Una canzone che mi sta più a cuore dell'album, Sì, è Tracce di Te, è un pezzo che mi porto in realtà da quando ero ancora ad Amici, ne ho iniziato a scriverlo lì e poi l'ho finito poi dopo. Nonano in particolare, è un singolo in realtà molto divertente, è molto giocoso. In realtà è vari, tra cui chitarra, pianoporte, batteria, poi un culet, vabbè, altri. Quello preferito ovviamente è Rektar. Una canzone che avrei voluto scrivere, penso, è Sledgehammer di Peter Cage. Il più bello che ho visto è Coldplay a San Sino nel 2017. Direi Accanto di Slash, Diaby Styles e Rudy Zerby. Beh, al momento penso Mick Jagger. Grazie. 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 Grazie.